Ciao a tutti ragazzi sono Dvizzerio5 in questo nuovo video giocheremo a Bluett prima ci ho provato è stato uno di bello cioè ho provato ho provato solo per vedere come funzionava sempre lo conoscivo bellissimo se premo a destra quello blu va a sinistra cioè va a destra se premo a destra quello blu va a destra teoricamente quell'altro va a sinistra niente va bene apriete da soli ma io sono scemo ok facciamo in serio ora che so giocare da ora so giocare guardate ahhh ahhh dovevo alzare il volume mi ero estratto ok ora si gioca bene apprezziamo il volume troppo alto no troppo poco anzi no troppo poco va bene ecco così va bene dito ti serve uno strumentare circolare questo questo è facile qui qua qui teoricamente dove premere a destra stavo riferendo qua a destra qua a sinistra qua a sinistra vabbè per alcune cose vogliono la pina combattere si chiude aspetta è un nuovo cosa tipo lo dovrò fare molto dubbetto perché c'ha moltissimi livelli ok no usatela uscita ma vuole vabbè lascia così mh mh due nooo 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 scusate la pubblicità ragazzi non si può mettere indietro qua ok basta ok poi c'è lì con cartella e dimostrato controllo fidate il tuo intestino stavo leggendo intestino ok intestino mi devo fidare cambiare è normale ma dai ma vabbè anche livelli cambiare livelli è normale wow non riuscite non riuscitarlo come il primo livello riuscita cioè prima dite riuscita come il primo livello prima di riuscitarlo mi congratulo mi congratulo con con gra con gratulo con gratulo avete capito? perché hanno detto due cose opposte nella stessa fase di livelli ok in questo livello non riesco più a parlare qua dovrei fare la best no move ok questa volta non perdo Dylan Dylan non portare a fitch ok 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 facciamo in seria quando divento serio se se ma perché non riesco a parlare serio mi applico accoglio accoglilo 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 accoglio ok applichiamocela da ora mamma mia era una fortuna che lo stavo sperando ok no allora basta lo scherzo è bello quando troppo ok 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 no qua dovevo girare a sinistra cioè dovevo premere vabbè sinistra destra sinistra sinistra destra sinistra destra non muoverti destra sinistra destra allora sinistra destra non muoverti destra ok 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 sì oh no se lo chiudiamo e poi lo riapro non ti fa la velocità ok 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 wow sto già a rabbia 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 questa è tutta l'ordine emergente sempre nel caos anche sempre anche nel caos non ho servito bene ok questo è leggermente più difficile qua devo tenere il punto a sinistra qua a destra invece ok non corre non corre che questo ti definisca non corre che questo ti definisca super eroe ok ho lasciato non ho non ho non ho mamma mia devo stare fermo in quel punto fermo, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra fermo, destra, destra, sinistra io penso che mi stai affittando di non essere sinistra pisa, ma passiva ok, ok, ce la sto facendo per il miracolo miracolo, 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 miracolo no, ulti no, ma vi rendete conto a quanto ho perso vi rendete conto era l'ultima, facciamola, concentriamoci sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra devo fare più piano l'altro sto da dieci minuti, già sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, 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 grande uffa di no ma ciao no, devo chiuderlo oh, niente di velocità niente niente vabbè due allora io un po' già ho finito ho creato da combo un po' cuffia consigliata perchè se no facciamo con le cuffie ci ammazzano ah facciamo solo questo e poi è anche il segno della tua umanità ok questo credo che è più facile secondo me non devo dire ok una volta ho compito il segno per tornare indietro non puoi tornare indietro ok non lo dovevo dire no, assolutamente chi è il creatore di questo gioco che ha il cervello così non puoi fuggire lo so che non posso fuggire è un gioco anche se posso chiudere il gioco finire io e non giocare più ok 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 accetto la sedocina e vai avanti ok mamma mia si accetto la sedocina e vado avanti ok adesso ah 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 ci sto camminando in mezzo sta provando a caso no mi arrabbio sarà l'ultimo mi arrabbio mi arrabbio mi arrabbio sarà l'ultimo no no va bene questo è tutto iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao